bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale io sono kino e oggi vi voglio portare un mega video di un mega cesto opening allora raga prima di cominciare col video vero e proprio voglio richiamare all'attenzione rodimar 5 mattimax 0 99 x drill x 99 exp daniel e angel of devil ragazzi voi cinque avete vinto il contest precedente siete liberi di contattarmi io sto cercando di contattarvi da un paio di giorni per darvi il premio del contest del video dell'altro giorno ma non riesco a farlo quindi cercate di venirmi incontro raga io ovviamente l'arma ve la regalo nel regalo una testa però 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 ho bisogno di contattarvi ovviamente ci saranno altri contest raga quindi per chi non ha vinto non preoccupatevi e ora andiamo a goderci il video eccoci qua raga come potete vedere mi sono ottenuto 10 lama halloween più abbiamo anche due lama smorgasbord spero si pronunci così essendo una parola completamente sconosciuta raga quindi andrei a cominciare con il lama halloween anzi comincerai con lama plus in più cominciamo da questo magari esce oro e chi lo sa mai no ti pare che sono così fortunato che mi esce l'amoro non succederà mai tentiamo la fortuna allora quella ma di halloween raga nel riscatto direttamente 10 in teoria dovrebbe alzarsi la probabilità di trovare cose più rare vediamo andiamo col primo chi riuscirà a guardare il video fino in fondo farò anche un anno un annuncio allora hazard viola già ce l'ho mi interessa andiamo già col secondo il lama pignatta e un superstite viola anche questi non mi interessano il lancia halloween già ce l'avevo quando tutti sti abietti ok uno smash error o raga che comunque ce l'ho già ma è sempre figo da vedere come superstite io spero mi è scalcigno subito anche un altro lama pignatta e non so che fare ma è piuttosto regalati un altro lama questo eroe ramecigno ok in caso ce l'abbiamo viola siamo dovremmo essere più o meno metà raga vediamo la roba azzurra completamente a casa non mi interessa andiamo andiamo veloce scelgo marino morto ramirez anche se anche lei già ce l'ho un altro smasher allora farò la squadra con solo superstiti smasher ma però i superstiti zombie sono proprio fighi da vedere la palla lì mi è uscita mi interessava tantissimo questa mi interessava un po meno ok raga in generale abbiamo ricevuto praticamente tre armi un botto di superstiti poteva andare meglio poteva andare comunque anche peggio un botto di eroi che già avevo fa niente saranno comunque manuali di addestramento utilissimi visto che sono bloccato al 121 avendo riesco a salire al 122 123 anche 124 se riesco a sistemarmi bene le squadre e adesso lancio una sfida raga allora vi faccio vedere uno secondo i miei progetti e sceglierò nei commenti tre commenti che riceveranno più like potenzierò l'arma che mi consigliate nei commenti ovviamente scusate la ripetizione di parole il gioco di parole semplicemente nei commenti voglio che mi consigliate quale arma tirare su e mettere like ovviamente ai commenti che più vi piacciono raga come i tre commenti che avranno più like con i con tre armi diverse ovviamente me le potenzierò ci farò anche un nuovo video contesto ovviamente e per oggi è tutto vi ringrazio di aver guardato raga ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao